Oggi torno a parlare di Giappone e lo faccio parlando della triste storia di Wishma Raznayake e del suo sogno di bambina infranto contro quel lato oscuro del Giappone che molti vorrebbero ignorare. Per prima cosa i fatti riportati dalla CNN, vi lascio l'articolo in descrizione se volete controllare e approfondire. La nostra Wishma, nata in Sri Lanka, fin da bambina si è appassionata al Giappone guardando uno sceneggiato chiamato Oshin, famoso negli anni 80, che parla di come una donna povera si è riuscita a tirare su una catena di supermercati. Da qui nasce il sogno di andare a vivere un giorno in Giappone, il padre la sprona, ma muore poco prima della sua laurea e a quel punto l'istituto convince la madre che sua figlia potrebbe andare a lavorare come insegnante d'inglese in Giappone. La famiglia ha quindi fatto sacrifici e lei nel 2017, a 29 anni, è partita per il Giappone con un visto studentesco. Il 6 marzo del 2021 purtroppo è morta mentre era detenuta dall'immigrazione giapponese. A questo punto è doveroso approfondire la storia di quanto sia successo in questo frangente di tre anni. La famiglia di Wishma sapeva solo che la figlia stava bene tramite messaggi chiamate e il feed di Facebook. Quello che però non sapeva è che nel maggio del 2018 aveva smesso di frequentare la scuola di giapponese e che era quindi giunto il foglio d'espulsione dal paese poiché non più in possesso di un visto valido. Aveva quindi fatto richiesta di asilo in Giappone più o meno in concomitanza con l'inizio del suo lavoro presso un'industria locale. Nel gennaio del 2019 la sua richiesta è però stata respinta ed è quindi stata considerata a tutti gli effetti un'immigrata irregolare. Dall'agosto del 2020 le sue chiamate a casa si erano fatte molto rade e il motivo è presto detto. La donna era andata in una stazione della polizia nella prefettura di Shizuoka per cercare aiuto nel lasciare il suo attuale compagno. Contemporaneamente ha detto subito che la sua visa era scaduta e voleva andare all'ufficio immigrazione di Nagoya ma non aveva i soldi. La ragazza avrebbe accettato di tornare in Sri Lanka poi ha ritrattato la cosa quando il suo compagno le ha inviato due lettere in cui la minacciava di rintracciarla e punirla se lo faceva. Lei dichiarò che credeva veramente che l'avrebbe uccisa se fosse tornata a casa. Siamo a dicembre 2020 e da lì al marzo 2021 il passo è purtroppo breve come una telefonata dell'ambasciata dello Sri Lanka che informa della morte alla famiglia. Questa era la storia di Wishma ma non è finita qui perché si delinea una situazione agghiacciante con colpe incredibili per l'immigrazione giapponese. All'arrivo della sorella per il funerale scopre il volto emaciato di Wishma, aveva perso ben 20 chili e alla richiesta di poter visionare i video a circuito chiuso delle ultime settimane la richiesta è stata rifiutata dall'immigrazione. Wishma era comunque in contatto durante la sua detenzione con un'associazione no profit, la Start, che si occupa di aiutare gli stranieri detenuti in Giappone e molto di quello che si è saputo è stato riportato da quest'ultima associazione. Inutile a dirsi che questa storia ha fatto alzare un polverone non da poco e molti attivisti e politici stanno chiedendo una revisione delle leggi sull'immigrazione relative soprattutto alla detenzione. Infatti la donna era in custodia presso l'immigrazione e nessuno ha detto come mai sia morta in quelle condizioni. Si potrebbe quasi dire che qualunque cosa avesse o le fosse successa l'hanno lasciata a se stessa. Il problema dell'ufficio immigrazione è che si tratta di un ente con tantissimo potere e che non deve rendere conto a nessuno delle proprie decisioni. Tanto per ribadire ulteriormente la cosa, negli ultimi 24 anni in Giappone sono morte ben 27 persone detenuti dal servizio immigrazione. Insomma nulla di buono dal lato dei diritti umani, ma noi come Italia ed Europa forse dovremmo guardare anche al nostro orticello. L'articolo della CNN è comunque molto approfondito a riguardo e vi invito a leggerlo per bene, anche per completare le mie lacune in questa esposizione. Questa situazione mi ha toccato perché magari anche io potevo essere messo in una situazione simile. Vi ricordo che ero in Giappone ad inizio 2020 e sono rientrato all'ultimo minuto prima che il mondo si chiudesse. Se fossi rimasto bloccato in Giappone il mio visto sarebbe scaduto e ok che li hanno poi rinnovati per diversi mesi, ma non era così chiaro in quel momento. Se fossi rimasto bloccato avrei comunque dovuto affrontare una burocrazia giapponese incredibile, ma non voglio divagare. Il punto è sempre e solo l'atteggiamento del Giappone con l'immigrato. L'immigrato serve, ma allo stesso tempo non lo si vuole. Lo stesso Abe di estrema destra ha aperto all'immigrazione di persone con determinate qualifiche di alto livello e inoltre c'è un visto per le popolazioni asiatiche vicine che permette l'accesso al lavoro per tre anni, vedendosi però revocati ulteriori rinnovi o future nuove richieste. Per un paese che ad andare al 2050 perderà il 25% della sua popolazione e che avrà il 40% dei restanti sopra i 60 anni non è proprio una grande spinta né all'immigrazione né alla propria autosufficienza. Un altro esempio, ma di diverso tenore di qualche tempo fa, è quello di un ragazzo nato in Giappone da genitori stranieri irregolari che è cresciuto fino alla maggiore età in Giappone per poi essere espulso da paese senza possibilità di tornarci mai più. Non aveva mai visto il paese dei suoi genitori, non aveva amici là, sapeva a stento la lingua, era cresciuto con una cultura giapponese conoscendo bene il giapponese, eppure non andava bene. Emblematico direi, se ritrovo il link della storia ve la metto in descrizione. Non voglio farla lunga, ma ugualmente mi sento di lasciare qualche mia personale considerazione. Voi per il momento potete già lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, commentare dicendo la vostra su questa storia e l'atteggiamento dell'immigrazione giapponese, che mi tornerà molto utile per ampliare la mia visione di insieme. Quello che volevo dire, mettendo da parte l'illecito commesso dalla donna, che ha un peso minimo rispetto purtroppo alla sua morte, è che sono esterefatto, in primis per gli atteggiamenti e minacce contro la donna che non si sarebbe sentita protetta in Giappone, e poi di come un Giappone moderno potenza economica abbia ancora queste parti oscure, reminiscenze di un Giappone feudale e isolazionista. Per quel poco che ci ho vissuto ho percepito più volte questa doppia facciata giapponese, e mi ha spesso messo a disagio il rapporto a come noi europei ci approcciamo a certe situazioni. Una parte di me vorrebbe ancora tornare a vivere in Giappone, ma allo stesso tempo ne avrei paura perché è un paese pieno di queste zone oscure, dove se ti ci ritrovi è poi un casino uscirne perché tu sei comunque e rimarai sempre uno straniero. Con questo è tutto, grazie a M.T. Ayers di essere arrivati fino a qui e al prossimo video. Ciao!